E ora ci spostiamo a Sansevero, siamo in collegamento con Don Andrea Pupilla che è cappellano della casa circondariale appunto di Sansevero. A lui chiediamo quale protesta hanno deciso di mettere in atto i detenuti del carcere di Sansevero anche alla luce di quello che è successo nei giorni scorsi nelle altre carceri d'Italia. Ciao Don Andrea, benvenuto. Ciao, buonasera a tutti, buonasera Paola. Allora, una protesta diciamo diversa rispetto alle altre? Sì, già nei giorni scorsi quando, soprattutto lunedì scorso, quando in molte carceri d'Italia sono accaduti degli avvenimenti gravi che hanno visto danneggiamenti, feriti e addirittura anche morti. Ecco, per fortuna nel carcere dove sono io non sono successe questi eventi di questa gravità. Ma già lunedì scorso si è attuata una protesta con grande senso di responsabilità, una protesta pacifica potremmo dire che consiste nella cosiddetta battitura delle inferriate due volte al giorno come segno di protesta, di dissenso rispetto alle normative stringenti che ha adottato il governo in concomitanza con questa emergenza sanitaria in atto nel nostro Paese. Cioè hanno deciso le autorità di sospendere i colloqui con i familiari fino al 23 marzo. Naturalmente questa situazione ha creato la protesta dei detenuti perché ad una situazione già difficile vedersi privati anche dell'apporto dei familiari, della visita dei familiari. Questo ha creato molto disorientamento e ha suscitato questa protesta. Don Andrea, nelle altre carceri d'Italia hanno liberalizzato le telefonate con i familiari, alcuni anche utilizzano Skype. Nel carcere di Sansevero com'è la situazione? Sì, sin dalle prime ore in cui sono stati emessi questi decreti la possibilità di telefonare è stata allargata, cioè nel senso sono aumentati i minuti di chiamata per i familiari e non soltanto in alcuni giorni, tutti i giorni è possibile chiamare. Insomma si è cercato di far fronte a questa difficile situazione adottando queste misure. Ecco Don Andrea, in conclusione, visto appunto che lo spazio del nostro OTG è anche abbastanza ecco ristretto, vorrei chiederti di concludere con un messaggio di speranza davvero per tutti perché è quello di cui abbiamo bisogno in questo momento storico che stiamo vivendo tutti quanti indistintamente da nord a sud. Certo, la speranza è la cosa di cui abbiamo bisogno tutti in questo momento ma soprattutto chi in una situazione di sofferenza che già viveva si è vista aggravare quella situazione da queste circostanze e quindi il mio auspicio è che possiamo farcela tutti, superare tutti e nel breve tempo possibile questa situazione ma anche nelle carceri ecco che questo grido che si è elevato, naturalmente non giustificando tutte le violenze che sono state messe in atto ma che questo grido di dolore possa essere sentito quando poi avremo più calma, più serenità da chi ha le competenze e iniziare a mettere mano anche al tema delle carceri e dell'esecuzione della pena magari in maniera diversa e più umana. Grazie, grazie a Don Andrea Pupilla, cappellano del carcere di San Severo. E concludiamo questa edizione del Tg con una notizia positiva, ci spostiamo a Vernolo in provincia di Lecce dove una fiorista che ha dovuto chiudere temporaneamente il suo negozio sulla base del decreto appunto dell'11 marzo scorso piuttosto che farli appassire ha deciso di regalare i fiori del suo negozio agli abitanti del paese. Un piccolo gesto per regalare un po' di colore e un sorriso in questi giorni di affanno. Questa giovane fiorista ha lasciato davanti alle abitazioni del piccolo comune in cui abita composizioni floreali con un biglietto, con su scritto. I fiori sono contagiosi e soprattutto hanno un entusiasmo contagioso, trovano sempre il modo di sbocciare in ogni stagione, facciamo come loro, troviamo il coraggio di resistere per sbocciare più forti di prima. E con questa notizia vi ringraziamo per averci seguito anche in questa edizione del Tg e buon proseguimento in compagnia dei programmi di Teleradio Padre Pio.